Tornerà a riunirsi mercoledì 29 aprile alle ore 10 il Consiglio Comunale di Camerota. 9 i punti all'ordine del giorno che saranno discussi e votati dall'Assemblea Cittadina. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune. Variazione del piano triennale delle opere pubbliche. Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva. Riscossione spontanea, liquidazione, accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente comunale. Regolamento di polizia mortuaria. Nomina dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio. Questi alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso della prossima seduta. Il Sindaco Antonio Romano, vista l'importanza degli argomenti, ha invitato la popolazione a partecipare.